eccoci qui con il secondo episodio di questa nuova serie di The Sims 3 la seconda che ho iniziato perchè la prima come già avete visto l'ho annullata per il fatto che ho perso i salvataggi eccoci qui, questa è la nostra nuova casa stanza da letto, c'è solo il letto e un comodino un bagno molto piccolo, poi una cucina, diciamo meglio delle altre stanze e questo sarebbe il nostro soggiorno beh, casa modesta per quello che abbiamo speso ma secondo me era meglio cominciare così perchè non essendo bravo a gestire i soldi su questo gioco facciamo la fine della prima serie che comunque non avevo mai, non ho completato ad arredare tutta la casa questo lago penso che ne prosciugherò buona parte ho tutto quanto e lo spostato tutto in un lato perchè comunque vorrei farmi più avanti un giardino beh, cominciamo con la nostra serie su The Sims 3 il nostro secondo episodio vediamo per prima cosa dobbiamo intraprendere il nostro lavoro qui gli edifici sono un po' incorporati come vedete come vedete laboratorio di scienza inizia la carriera scientifica poi i bisogni stanno al massimo sposteremo già da adesso il lago vediamo lagatti spianiamo tutto poi facciamo nel lato che è meglio così ci da meno fastidio facciamo abbastanza ampio facciamo abbastanza ampio in senso dimensioni come l'altro perchè comunque per se vorremmo farci una famiglia animale di gatti oppure se vorremmo anche cominciare facciamo una stalla per i cavalli comunque abbiamo bisogno di molto terreno penso che questo ci basti questo marrone sembra un po' brutto non costa niente quindi coloriamo di questo balvard perchè poco marroni si però sai cosa è successo beh anche sto harden che tanto ballo però ce la teniamo così che è meglio fa che ci sta fiori no no non mi interessa niente a me cominciamo magari vediamo non penso qui si accettiamo la carriera è stato un po' più difficile trovare dei semi infatti andiamo eccolo qui tavola calzanota e cozza alimentari rifai la spesa andremo a comprare dei semi facciamo uno di lattuga un pomodoro una mela e uno di uva vediamo poi cosa è il formaggio non possiamo ancora patate, carote, cipolla no per il momento va bene magari facciamo un in più di questo e magari questo di mela no facciamo uva comunque quanto spendiamo? 33 non abbiamo abbiamo abbastanza soldi cominciamo a piantarli andiamo vorrei farli vicino al laghetto andiamo pianta facciamo qui poi pianta più esemplari andiamo andiamo a conoscere diciamo una notizia una sim dove possiamo andare non conosco nessuna cosa si raggi qualcosa andiamo tipo qui no qua c'è qualcuno lalali lalala 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 hmm speriamo non sia sposata vediamo Facciamo subito Vediamo se è single Speriamo di no C'è proprio adesso dove andare in bagno Perfetto Cominciamo Facciamo un semplice chiacchiera Gesù esalta la nuova casa Impara a conoscere E poi andiamo sul romantico Sembra accettare Il romanticismo da parte nostra Facciamo così Andiamo più sul chiacchiero Essendo conoscenti Chiudete la carriera Speriamo quei lavori Quella del nuovo lavoro Speciale In quei per le romantico Così Consulente di Ah si Lavoro part time Estetista praticamente Complimenta Complimenta l'aspetto Buffa conoscere Buffa Se ci sposiamo già In questo secondo episodio È un record Non sono mai riuscito Diciamo il primo giorno Di come si chiama Il primo giorno Di Sud Sims 3 Di una nuova Di un nuovo sim Farlo sposare O almeno A fare Una coppia fissa Spettacola Spettacola Poi Ancora conoscente Andiamo su Fai una faccia buffo Mantico Complimenta l'aspetto Personalità Le classiche cose Conoscente Già amico Si è arrivato già D'amico Molto bu Già ci abbraccia Amorevolmente Sul romantico Ce ne saranno altri Racconta una barzelletta Per Flirtare Amichevole Chiacchiera Poi Chiedite lo spettacolo Chiedite la sua giornata Quindi è un dinoso Romantico Le cose più Importanti Oh Scappa da via Sì Dici me a parlare Con questa Sì 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 già che ci stai Vai pure in bagno Che figura di cacca Mi metto vergogna Io per lui Cioè va a mangiare E poi non Non va in bagno Mamma mia Cioè proprio Ci vuole un coraggio Per una cosa del genere No Dobbiamo riuscire A fare coppia fissa Facciamo Eccolo qui Bacio per la prima volta Perfetto Perfetto C'è un niente Ma io di Perfetto Dove sta C'è l'inguaribile romantico Tiene le nuove Baci timidamente Amichevola Ah Facciamo questo Almeno non dobbiamo Andare a casa nostra Si sta facendo tanti Forse Vare che Vabbè Non ti conosco abbastanza Vabbè Fai niente Ci andiamo a casa nostra Facciamo Lavare Non si è mai visto Uno Un ventenne Che si fa pipi sotto Cioè neanche a sei anni Più i bambini Fanno pipi sotto Ce l'ho un coraggio Vediamo Andare a un appuntamento Con Valori Poi vedremo Perché fra Non molto Dovrebbe andare al lavoro Il nostro sim Vare alle 8 Quindi Alle 8 Ciò che voglio comprare Facciamo una cosa Andiamo Telefono Dovrebbe esserci Prendi delle ferie Non pagate Certo Primo giorno Come hai? Siamo stati fortunati Primo giorno di lavoro Non ci presentiamo Con una scusa Lasciamola dormire Sta già crescendo Il nostro L'orto Credo che questa volta L'orto sarà Molto piccolo Mi ricordo una volta Quando ho fatto Una serie Su The Sims 3 Però non Non per YouTube Ma Ce l'ho giocato io Avevo fatto un orto Che praticamente Era grande Da qui Fino in fondo A tutto Avevo tre persone Che lo gestivano Che erano in pensione E usavo solo Ambrosia Per tenerli sempre in vita Non lavoravano Sono in pensione E questi Gestivano questo Giardino Vabbana Appena si sveglia Ci do questo Secondo episodio Dai moviti Che il tempo Sta stringendo Per questo Secondo episodio È tutto Arrivederci Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Ti do questo Vi Mi ricordo Per questo